Quando uno ascolta le parole dell'altro, la commozione è palpabile. Andrea ed Erminio Valsecchi, 96 anni il primo, 93 l'altro, fratelli, nativi di Bosisi o Parini, re i duci di guerra. Andrea, carrista, ha combattuto la battaglia di El Alamein e poi è stato prigioniero di guerra per 30 mesi in America. Erminio, arruolato in artiglieria al compimento del diciottesimo anno di età, è stato deportato in Germania dopo l'8 settembre, prima nel campo di concentramento di Kassel-Zichinai, poi a caricare carbone per 12 ore al giorno, infine in fabbrica, nei loro ricordi, lucidissimi, l'orrore della guerra. Siamo stati 15 giorni a aspettare i carri armati a Marte Matruc e dopo sono spediti per El Alamein in mezzo a un fuoco che sembrava di giorno che di notte. Il suo carro armato è stato colpito da una granata, eravate in quattro su quel carro armato e sopravvissuto solo lei. Mi racconta quei momenti. Aspettavo i soccorsi, non è arrivato nessuno, perché io sono rimasto senza camicia, senza niente, perché è bruciato tutto. Il suo comandante aveva una ferita al collo. Alla gola, proprio davanti alla gola, io mi sono lavato la camicia e l'ho vendato. Aspettavo i soccorsi, non è mai arrivato nessuno. All'imbrunire la sera, allora, mi sono deciso di vado e torno indietro. Guardando le stelle, ho trovato la compagnia di comando, abbiamo preso due camion. Mentre mi ritiravo sentivo gridare i feriti. Abbiamo caricato due volte il camion, li abbiamo portati all'ospedale di campo. cercavo il mio capitano e tutto. In mezzo al deserto non sono stato capace di ritracciarlo. Abbiamo fatto la ritirata da Elamè fino a Tunisia e durante la ritirata si venivano mitragliati. Un mio amico di Piombino è rimasto vicino a me, forse neanche un metro di lontananza. Napolotra l'ha traforato la testa. Io l'ho preso e l'ho portato sul camion. Dopo poi abbiamo trovato come un cimitero e l'abbiamo seppellito nelle zone di Tripoli o Bengasi. Siamo andati in Tunisia. In Tunisia ci hanno messo in prima linea, ma non c'era più niente. Un giorno arrivano gli americani, se si sente sparare. Io avevo 40 di febbre, mi ricordo ancora. Mi arrivava dentro il pallotto nella tenda. Allora lì ci sono dei rifugi. Un momento di calma mi sono buttato nel rifugio. Ci siamo resi. Erminio, mentre suo fratello si trovava in prigioniera in America, lei era in un campo di concentramento invece in Germania. Io sono partito il 30 agosto e sono andato a Pola. E poi mi hanno preso l'aio e mi hanno trasferito in Germania. Durante il viaggio da Venezia ad andare a Kassel ci sono voluti 11 giorni. Però i tedeschi non mi hanno mai dato un panino, niente. Durante il trasloco a Udine i ferroieri hanno lasciato aperto il portone d'ingresso senza mettere sul gancio e ne sono scappati 15. Durante la notte tra Udine e andare in Austria, aprirono il portone e i macchinisti andavano ad agio. E loro d'accordo, gli anziani però, aprirono e rotolavano giù. Siamo rimasti in 45. È vero che nel campo di concentramento ha conosciuto una principessa ebrea? Una bella ragazzina, però non potevo fare niente. E solo ero prigioniero, io prigioniero a lei. Che cosa le diceva questa principessa Margaux? Si è attaccata al collo. Valsecchi, portami via di qua. Valsecchi, portami via. Mi ha fatto vedere le sue fotografie. Una principessa era, proprio una gente. Però gli ebrei là erano maltrattati. Com'era la vita nel campo di concentramento e nella fabbrica dove ha lavorato per oltre due anni? Era dura, perché in partenza si faceva 12 ore al giorno e poco cibo. Di notte, quando faceva il turno di notte, niente da mangiare. Non appena arrivato nel campo di concentramento, vi hanno detto che se aveste firmato per entrare nell'esercito fascista, potevate tornare subito in Italia. E lei non ha firmato. Prima di trasferirci fuori a lavorare tutti, ci hanno radunato in quel campo lì. Chi voleva rientrare in Italia firmava di entrare col governo fascista a combattere. Lei non ha firmato. No, no, no. E gli anziani mi dicevano non firmate. Lei ha ricevuto una medaglia dal prefetto. Sì, il prefetto ha comodo tre anni fa, alla giornata della memoria. Anzi, sul giornale ha detto la medaglia d'oro, invece di bronzo. Senta, lei non l'hanno dato una medaglia che è sopravvissuta dell'Alamen? Ho fatto la proposta per la medaglia d'argento, ma poi non è arrivato mai niente. L'ho fatto. Vabbè, l'avete già vinta la vostra medaglia, però no? Così in forma, insieme. E tanto per un ricordo non è una cosa... Siamo qui a raccontare ancora. Siamo qui a una certa età perché... Invecchare è una fortuna, ma a cervelli è un problema.